Grazie Pietro e ringrazio l'Istituto Zaccagnini e in particolar modo il dottor Giorgio Urghetti per questo invito. Mi fa molto piacere essere qui insieme a voi per potervi dare alcuni raguagli su quelle che sono attualmente le scelte correttive in ambito del keratocono. Io penso che questo ambito sia l'ambito in cui maggiormente il link e la collaborazione se vogliamo tra clinici oculisti, chirurghi anche oculisti e ottici, optometristi, contattologi trovi il migliore sodalizio e il migliore rapporto. Ed è un rapporto che è estremamente cruciale per il paziente, è un rapporto sulla quale veramente si stabilisce la determinazione tra ciò che si può fare e ciò che invece non si può fare e quindi le scelte che ovviamente poi ritornano in campo in un secondo momento. Scelte che non trovano mai necessariamente una scelta definitiva per il paziente, mi spiego. Una scelta di una correzione con lenti a contatto, voi sapete molto meglio di me, che può trovare una perfetta soluzione per la necessità del paziente in un arco temporale che è difficile da definire. I pazienti come tutti noi invecchiano, i pazienti sviluppano deficit ad esempio lacrimali col tempo dovuto al fatto che l'invecchiamento porta molto spesso ad una riduzione della secrezione del fin lacrimale e lo stesso paziente può sviluppare patologie che non riguardano gli occhi ma patologie ad esempio che riguardano anche la capacità, la destrezza del paziente di maneggiare le lenti a contatto, l'artrite reumatoide ad esempio, che comportano necessariamente nel tempo una rivalutazione potenziale di quelle che sono le optimali correzioni per il paziente, per quel tipo di cheratocono. Pensate ad esempio al sviluppo della cataratta. Lo sviluppo della cataratta è un time point in un paziente che ha un cheratocono affetto dal cheratocono e che corregge questo cheratocono molto bene ma che poi sviluppa una cataratta, quale si pone appunto il quesito e adesso cosa facciamo? Facciamo il semplice intervento di cataratta e poi il paziente continua a portare le lenti a contatto ovviamente adeguate oppure si ristabilisce quello che è un setting completamente differente per la correzione di questo paziente. Quindi la complessità e la interazione tra il medico oculista, chirurgo e l'ottico optometrista e contattologo rappresenta una diciamo interlocuzione dinamica che si stabilisce nel tempo in rapporto anche all'invecchiamento e all'evoluzione dello stesso paziente. Cos'è il cheratocono? Non sto qui a spiegarvelo perché lo sapete molto bene. In sostanza è una patologia ancora oggi classificata come malattia rara la cui prevalenza si stabilisce in un ambito europeo tra i 45 e 47 pazienti per 100.000 abitanti all'anno. Questo è quello che viene definito in un ambito ovviamente a noi familiare che è quello dell'Europa, dei confini europei ma sappiamo molto bene che esistono delle popolazioni, delle etnie in giro per il mondo dove questa prevalenza risulta essere più che raddoppiata e quindi ovviamente in queste popolazioni il peso diciamo della patologia del cheratocono risulta essere molto ma molto maggiore. Una volta non esisteva una soluzione facile per il paziente affetto dal cheratocono e molto spesso questi pazienti finivano per andare incontro a un intervento di trapianto di cornea anche fino al 20-25% di questi pazienti venivano trapiantati nel corso della loro vita. Ovviamente sappiamo molto bene che la patologia tende ad essere più rapidamente progressiva laddove la sua insorgenza sia più precoce nell'età evolutiva di questo paziente. E sappiamo anche che la mediana di sopravvivenza dei trapianti che allora una volta prima degli anni 2000 erano prevalentemente trapianti perforanti avevano una capacità diciamo di durata nel tempo relativamente limitata. In realtà qui è riportata una mediana di 17 anni vi posso certamente dire che questa mediana è ben oltre i 17 anni e che oggigiorno con i trapianti lamellari di cornea la mediana di sopravvivenza non esiste più possiamo garantire che il trapianto duri sostanzialmente la vita del paziente. Ma in questo mio discorso io non voglio soffermarmi sui trapianti anche se Pietro molto gentilmente mi ha presentato come un esperto di trapianti di cornea nulla a che vedere con questo non vi voglio parlare di trapianti di cornea perché non è l'ambito che magari vi può interessare più principalmente ma quello che in realtà in sostanza si stabilisce prima rispetto a una decisione di trapianto di cornea. Da un punto di vista scientifico quello che noi leggiamo in letteratura e anche nella vostra letteratura è suddiviso in base a quelli che sono i criteri diciamo di affedibilità, di importanza, di rilevanza di quello che viene scritto e questi criteri sono stabiliti in base ovviamente a quello che è lo studio il disegno di quello studio che ha portato poi ovviamente alla creazione di una pubblicazione e da questo si derivano dei gradi di raccomandazione sulla base di quelle che sono le evidenze scientifiche che scaturiscono da questi studi. Esistono ovviamente delle evidenze scientifiche di grado A, di grado B, di grado C e di grado D e questo ovviamente in relazione alla tipologia dello studio che è stato condotto, alla sua affidabilità e soprattutto all'importanza quindi in questo senso dell'affidabilità del risultato scientifico. Quindi uno studio randomizzato ad esempio avrà ovviamente un'affidabilità da cui scaturisce come risultato molto superiore invece ad un case report o uno studio invece condotto soltanto sull'osservazione di una popolazione. E questo è estremamente importante perché? Perché in sostanza ci dice quanto è affidabile quella tecnica che noi andiamo ad attuare e quella ovviamente a proprietà di indicazione che questa tecnica può ovviamente offrirci. La classificazione del keratocono è ahimè ancora relativamente lacunosa. Questa è la classificazione di Crumaic. È veramente una disperazione la classificazione di Crumaic in quanto il buon Crumaic, penso che sia ancora in vita, ha attuato, disegnato questa classificazione tantissimi anni fa con ovviamente le tipologie diciamo di strumentazioni investigative nell'ambito della cornea che erano estremamente più approssimative rispetto a quelle attuali. E quindi è una classificazione che ancora oggi viene citata ma che in realtà non dovrebbe essere più citata ma che comunque si basa sostanzialmente sulla valutazione di quelli che sono gli indici keratometrici e si basa sostanzialmente su questo, sulla presenza o meno di cicatrici, sulla presenza o meno di strine di Vocht, il segno di Manson, elementi che oggigiorno noi valutiamo sì ma con una relativa interesse. Molto di più ci interessa ad esempio l'elevazione della superficie anteriore, della superficie posteriore e anche ovviamente la pacchimetria, cose, tutte cose che Crumaic ai tempi non era in grado di studiare. Sulla base della classificazione di Crumaic si è a lungo stabilito quale tipo di correzione fosse ottimale per il paziente. Correzione tempiale, lenti a contatto oppure trapianto di cornea. Posta in questa progressione, che è una progressione diciamo estremamente schematica ma è estremamente anche diciamo semplicistica, la classificazione di Crumaic può avere ancora un significato applicativo anche se poi alla fine la sua classificazione stessa di quanto sono i K più di 43, 52 o 55 sono tutti numeri che non vogliono dire assolutamente niente. Perché alla fine la resa dei conti è che una lente a contatto ci sta se ci sta, una lente a contatto non ci sta se non corregge. E questo è, ahimè, quanto mai la palissiano, quanto mai evidente, ma è storia di tutti i giorni. È ovvio però che quello che cambia è in sostanza la volontà, lo sforzo e l'applicazione che almeno nella nostra mente tutti noi abbiamo nei riguardi del fatto che una correzione con lente tempiale sarebbe sicuramente l'ottimale per un paziente affetto da un keratocono multiniziale. Ok? Questo presuppone ovviamente il fatto che una diagnosi precoce venga stabilita precocemente abbastanza affinché il paziente possa essere ancora corretto con una correzione tempiale anche se sappiamo benissimo che una correzione tempiale non è la migliore correzione per un paziente che ha una cornea, come abbiamo sentito nell'azione precedente, particolarmente abberrata, particolarmente distorta, ma che rappresenta sicuramente comunque una correzione utile per il paziente per un arco temporale che può essere considerato anche indefinito, cioè la vita del paziente. Io se dovessi vedere un ragazzo di 18 anni che ha un keratocono iniziale e che riesce a portare una correzione tempiale con una correzione diciamo dagli 8 e 10 decimi io sarei l'oculista più felice del mondo. Una volta crosslinkato questo paziente ha probabilmente il 90-95% delle sue probabilità nella sua vita futura di poter continuare a utilizzare utilmente quella correzione tempiale senza dovere cercare o necessariamente cercare delle correzioni alternative se non ad esempio per scopo sportivo o per scopo ludico. Quindi dove vogliamo arrivare? Vogliamo arrivare sostanzialmente a questo, cioè a zerare la quota di pazienti che necessariamente sono costretti a dover ricercare una correzione alternativa rispetto alla correzione tempiale. Parliamo di un futuro immaginario? Parliamo di un futuro irraggiungibile? Beh, è sicuramente un futuro non facile da raggiungere ma dovete considerare ad esempio che in Svezia hanno pressoché a zerato il numero di trapianti eseguiti per keratocono. Questo che cosa vuol dire? La Svezia è sempre il paese di riferimento perché è il paese perfetto dove i bambini non sviluppano carie dentali e dove hanno un'assistenza precisa e puntuale. Ma questo vuol dire che una diagnosi precoce di keratocono e un crosslink adeguatamente effettuato implica che il trapianto di cornea per questi pazienti possa essere considerato non più necessario. E quindi ovviamente dove vogliamo arrivare? Vogliamo arrivare alla correzione ottimale e a correzioni più portabili. Le lenti a contatto sono diversi tipi e di tanti tipi. Esistono le lenti a contatto morbide, RGP, semisclerale, sclerale, piggy bag, ibride. Tutte queste sono applicabili in relazione a degli algoritmi, a delle valutazioni e a delle esperienze che è l'ottico optometrista, il contattologo che riesce a effettuare in ragione anche quelle che sono la curvatura ovviamente del keratocono ma poi alla fine dei conti sempre e comunque il grado di tolleranza che il paziente dimostra nei confronti della lente a contatto. Ci sono pazienti che per una questione meramente psicologica non riescono a infilarsi una lente a contatto negli occhi e questo lo sapete molto meglio di me. Questi sono pazienti che al di là di quello che è la stadiazione di Crumaic non porteranno mai una lente a contatto per una questione proprio di incapacità di avvicinarsi ad una lente a contatto. Tuttavia da un punto di vista scientifico oggi la lente a contatto rappresenta ancora il gold standard della correzione del keratocono e rappresenta sicuramente la prima funzione correttiva che noi applichiamo per un keratocono al di là di quello che è il suo grado di sfiancamento, il suo grado di evoluzione e da un punto di vista scientifico la lente a contatto riceve un bel grado A per quello che è la sua affidabilità scientifica. Il crosslink è probabilmente, considerate che in Italia è sbarcato più o meno nel 2007, rappresenta sicuramente a mio modo di vedere la più grande evoluzione che in oculistica sia stata introdotta dal 2007 ad oggi. È quello che ha radicalmente cambiato la prognosi visiva per una serie di pazienti in età lavorativa e che ha effettivamente cambiato completamente la maniera di trattare i pazienti affetti del keratocono dalla classica diciamo wait and see, cioè aspetta e vediamo che cosa succede, a quello che è invece il trattamento proattivo per bloccare il keratocono anche se le sue capacità di correzione sono estremamente limitate ancorché possibili almeno in alcuni pazienti. La stabilizzazione col crosslinking è un intervento chirurgico relativamente facile, ambulatoriale, non completamente al 100% scevro da complicanze come anche la avulsione di un dente quando andate dal dentista o anche attraversare la strada ancorché sulle strisce pedonali non è scevro completamente da rischi, è un trattamento comunque molto sicuro e molto efficace almeno nell'85-90% dei casi. La progressione si stabilisce in un numero di pazienti molto più ridotto rispetto ai pazienti trattati e quindi ovviamente la sua indicazione è un'indicazione importante. Diamo un grado B all'evidenza scientifica in quanto nella maggior parte dei casi, se non in pochi casi, sono stati condotti gli studi randomizzati su pazienti affetti da keratocono per crosslink. Perché? Perché è una questione principalmente etica, allora randomizzare oggigiorno un paziente a titratto oppure non titratto, un paziente che ha evidentemente un keratocono iniziale, comporta un aspetto etico ovviamente difficilmente affrontabile e pertanto studi prospettici randomizzati in questo tipo di tipologia dei pazienti non sono stati condotti e non penso che ne vedremo. Qual è lo stadio giusto per un keratocono? Beh, allora lì il discorso è un discorso abbastanza vario. Dobbiamo considerare che questi pazienti per poter efficacemente beneficiare di un trattamento come il crosslink che devono avere un stadio il più precoce possibile, ok? Perché è lì che effettivamente se noi riusciamo a intervenire precocemente, riusciamo a bloccare questo keratocono, possiamo garantire al paziente di poter usufruire di una correzione tempiale o usufruire di una correzione magari con lenti a contatto, magari anche morbide, oppure con lenti a contatto non particolarmente impegnative, come lo chiamo io, per un periodo prolungato di tempo nella loro vita. E questo è l'obiettivo principale che noi tutti vorremmo realizzare. Però è possibile applicare e eseguire un crosslink anche in keratoconi molto ma molto più evoluti se ad esempio il paziente ben tollerante a delle lenti a contatto anche sclerali desidera e gradirebbe poter continuare a portare questa lente a contatto nel tempo laddove ovviamente il suo keratocono rimanga stabile. Gli anelli intrastromali, anche questo sono una frontiera di correzione del keratocono che è stata ampiamente utilizzata anche se non nascono per la correzione del keratocono. Sapete molto bene che nascono per la correzione della miopia ma sono state applicate al keratocono al fine di cercare di regolarizzare quello che è l'irregolarità della forma della cornea. Gli anelli intrastromali vengono inseriti oggigiorno attraverso delle incisioni effettuate con un laser Fentosecondi che ha aumentato enormemente la loro affidabilità e la loro precisione ma che ugualmente portano ad una correzione che è relativamente soddisfacente. E potete capire molto bene il perché. Perché la loro efficacia correttiva è tanto maggiore quanto più prossima è la posizione dell'anello rispetto al forame pupillare. Voi capite che se andate a approcciare la zona ottica con un elemento esterno che va ovviamente a modificare la forma, la curvatura della cornea inducete inevitabilmente quelle che sono delle disfotopsie, delle aberrazioni, delle difficoltà visive che si possono presentare soprattutto in determinate condizioni di luce quale ad esempio le condizioni mesopiche, la guida alla sera che per questi pazienti può essere effettivamente molto difficile dopo l'impianto di un anello. La loro evidenza scientifica è C, quindi non alta. Perché? Perché non ci sono degli studi ben condotti che abbiano effettivamente dimostrato la efficacia nella maggior parte, diciamo in una buona percentuale di pazienti di questo impianto di anelli intrastromali. Molti considerano che l'impianto di anelli intrastromali abbia la stessa capacità, diciamo, di correttiva, predittività correttiva di lanciare una monetina in aria e sperare che cada dalla parte della testa o dalla parte della croce. Quindi un buon 50%. Capite che un 50% non rappresenta un elemento che da un punto di vista scientifico abbia una elevata applicabilità. Esistono poi ovviamente delle forme correttive del keratocono che sono delle specie di mix match tra forme, diciamo, incisionali quale ad esempio gli anelli intrastromali e forme che sono invece guidate dal laser quale la PRK topo guidata. Come si applicano queste? Queste si applicano su una base sostanzialmente di correzione molto parziale di quello che è la curvatura dell'apice corneale al fine di indurne un appiattimento con una correzione di pochi micron sufficienti per poter ridurre ovviamente la quantità di astigmatismo e la quantità di aberrazione presente. Sono delle correzioni che vengono eseguite su mani molto esperte che prevedono comunque la stabilizzazione del keratocono a priori prima di essere appunto applicate. Questo ovviamente perché non possiamo pensare di fare una correzione chirurgica per poi ritrovarci a distanza di alcuni mesi o alcuni anni con un keratocono evoluto a causa del fatto che non era stato stabilizzato principalmente. La loro capacità, diciamo, da un punto di vista scientifico di validazione della loro, diciamo, suggeribilità applicativa è tra il C e il D, quindi non molto elevata. Perché? Perché in sostanza è un po' come cuocere un minestrone, ok? Ognuno ci mette la propria ricetta, ognuno ci mette qualche cosa un pizzico di questo e un pizzico dell'altro ma voi capite che da un punto di vista di quello che è la scientificità di uno studio questa introduzione estremamente personalistica di quello che è l'esperienza comporta necessariamente una riduzione di quello che è la riproducibilità dello studio condotto e quindi ovviamente della scientificità di questo studio quindi tra il C e il D. Ciò detto, ovviamente, il keratocono ancora è corregibile anche con tutta una serie di questi elementi che non prevedono tra l'altro necessariamente la, diciamo, impossibilità in un secondo tempo di eseguire un trapianto di cornea e questo ovviamente è un elemento estremamente positivo perché sia il crosslink che gli anelli intrastromali che anche eventuali interventi refrattivi non pregiudicano la possibilità in ultima analisi laddove tutto vada male di poter eseguire un trapianto di cornea in un secondo momento anche a distanza di numerosi anni e questo ovviamente rende questo tipo di interventi che sono plausibili nell'ambito ovviamente di un'applicazione ragionata su quello che è il grado di evoluzione del keratocono del singolo paziente e la sua maggiore o assoluta incorregibilità con i presidi che noi conosciamo vi ringrazio per l'attenzione grazie 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 grazie